Ritorniamo con Politicando e sempre con il nostro ospite di oggi, ovvero l'onorevole Iano Gurrieri. La puntata, vi ricordo, potrà essere ascoltata su speaker.com, nella home page di radiotelelocale.it, sull'app di Chiaramonte e nella pagina Facebook Radiotele Locale. Inoltre, vi ricordo ancora, potete commentare e fare domande al candidato sindaco attraverso la pagina Facebook e non solo. Quindi, tornando a noi, onorevole, secondo lei, quali sono le azioni da portare avanti per il futuro di Chiaramonte? O meglio, le risorse finanziarie, come le recuperiamo per dare questo futuro a Chiaramonte? Ecco, il futuro si può dare dando il Paese a bisogno di essere rianimato. Perché in questi anni il Paese è stato completamente abbandonato, non ci sono state occasioni di rilanciare quella che è l'identità di una comunità, perché non essendoci opere di una certa importanza, la base del Paese non viene stimolata a partecipare a degli eventi che possono creare questo orgoglio dell'identità. Se noi registriamo in questi mesi, in questi anni, che ci sono stati comuni come Scicli, come Modica, come Ragusa Ibla, che dell'identità e del territorio, della valorizzazione dei prodotti di eccellenza, hanno fatto un cavallo di battaglia, noi siamo all'oscuro di questi privilegi? No, quando sono stato sindaco, sono stato comune capofila per ottenere il marchio DOP Montiblai. L'olio di Chiaramonte viene considerato dagli studiosi della materia, non un alimento ma un medicinale, perché viene utilizzato in laboratorio, perché ha un'incidenza particolare all'interno della dieta mediterranea per abbattere alcuni tumori allo stomaco. Queste cose le dice il professor Berrino, ex numero 2 del centro d'amore di Milano. E chi sostiene che non è un alimento, ed è un medicinale, è anche un professore della materia, che è il professor Calabrese, che noi abbiamo invitato, quando abbiamo amministrato questo Paese, per organizzare durante una fase importante di convegnistica, e che poi ho avuto modo di richiamarlo qui in provincia, quando abbiamo fatto una manifestazione del Girolio a Ragusa nel 2013. E lui è sempre convinto che l'olio che ha due linee, quindi ha, diciamo, delle qualità organolettiche straordinarie, può essere un'occasione storica per il territorio che lo produce. Quindi se si sta fermi e si lasciano gli olivicoltori in difficoltà, perché la questione del clima, il fatto che c'è una concorrenza spietata nei supermercati, è chiaro che queste persone non possono rimanere senza avere l'assistenza per creare momenti di aggregazione tra gli olivicoltori per comprare una macchina che possa erorare per tre volte l'anno gli alberi, perché con una particolare sostanza che viene iniettata in tre anni, determina un momento virtuoso che è il famoso momento della legagione. Significa che durante la fioritura, con quel trattamento, si può avere un 20-30% di prodotto in più. Questo discorso lo faccio perché per quest'anno, la prima volta nella storia, abbiamo avuto una raccolta del 20%. Se l'olio viene venduto anche all'estero, e quindi quelli che fanno imbottigliamento fanno contratti, e i contratti non si fanno per semessi, i contratti si fanno per anni. Non si può dire noi abbiamo una zona dove il raccolto avviene un anno sì, un anno no, e poi ci vuole un'organizzazione. La mano pubblica può fare qualcosa, e nel mio programma c'è di organizzare all'interno del mercato ottofrutticolo di Roccazzo, che non è in attività per colpa di questi amministratori, lì può diventare un centro organizzativo con una società mista pubblico e privato per fornire agli olivicoltori una organizzazione di supporto per valorizzare. Quindi la questione delle risorse è un problema, perché si possono ottenere a medio e a lungo termine se si potenzia la zona artigianale, perché la zona artigianale determina due virtù. Una, che crea posti di lavoro. Due, che chi insedia un'operificio paga le tasse. Le pensi che noi abbiamo due sole società che sono insediati in questa zona artigianale, o in zona limitrofe, pagano 150.000 euro l'anno di tasse, spazzatura, ICE, eccetera. Quindi sono una risorsa. Allora, questo però non avverrà in tempi brevissimi. In tempi brevissimi dobbiamo cercare risorse per rivolgerci ai giovani, ai giovani che studiano, ai giovani universitari, ai giovani che sono negli statuti superiori, alle medie, per dirci ragazzi, da questo momento noi vi daremo una mano attraverso delle borse di studio, perché da questo momento non sarete sole. E' chiaro che io ho in mente anche di creare l'opportunità di fornire a Chiaramonte due istituti superiori. C'è il liceo musicale, perché abbiamo un museo, di strumenti musicali di livello nazionale, e un istituto agrario. E' chiaro che abbiamo gli elementi per poter rivendicare questa pretesa. Lo faremo e questo anche ha bisogno di un po' di tempo. Quindi ci saranno interventi immediati. La quantità degli interventi non dipende da me, dipende da quello che trovo nel bilancio del Comune. Altri candidati a sindaco di Chiaramonte parlano di finanziamenti europei. Lei in merito che cosa dice? Beh, il fatto che ne parlano mi danno conforto. perché così facciamo un percorso comune nell'indicare le fonte di finanziamento. Noi stiamo investendo tutto, e abbiamo avuto coraggio per farlo, su un'opera che Alcern ha avuto paura di affrontarlo. O paura, o incapacità. Con i fondi europei. Perché l'attuale sindaco poteva benissimo informarsi che i contributi si potevano ottenere anche da parte dello Stato se si faceva un progetto per il recupero ambientale. Perché quel rudere all'interno di quel paradiso è una ferita. e si potevano già fare le fondamente. Si potevano fare interventi. Per fortuna siamo stati aiutati dal Padre Eterno. La struttura non è crollata e se io andrò a fare il sindaco di Chiaramonte lì diventerà veramente un paradiso. Ecco, lì intendiamo che cosa? E quindi se lei mi ha dolcemente provocato sulla vicenda dei fondi europei la questione della pinetta rientra a pieno perché ci sono le misure. E non è che ce n'è una sola misura ce ne sono diverse. Quindi c'è l'abbinata territorio-turismo e quale migliore occasione di sfruttare l'utilizzo dei fondi europei per creare una discoteca come c'era nella struttura una piscina come era programmata nella struttura e sono tutti interventi che noi li abbiamo ricavate attraverso una progettazione che abbiamo fatto indipendentemente da quello che non troveremo al Comune. E siamo andati a cercare una ragazza di Chiaramonte una brava architetta che si è dato la tesi sulla struttura della pinetta e noi l'abbiamo portata in pubblico e ha dato un contributo straordinario. Io per parlare di fondi europei a dottoressa non mi sono affidato alle mie competenze di esperienza politica eccetera io non sono un tuttologo ho dei limiti e nei finanziamenti europei occorrono specialisti della materia. Io ho portato una delle figure più importanti della Sicilia a spiegare come si può fare la pinetta attraverso i fondi europei ed è un docente universitario all'Università di Catania che si chiama dottor avvocato Guzzardi. Quindi come veda noi non facciamo voli pindarici non creiamo sogni noi ad ogni iniziativa abbiamo fatto un programma abbiamo messo dove attingeremo i soldi anche quelli che dobbiamo dare ai ragazzi per le borse di studio. Noi li recupereremo li recupereremo attraverso la banca agricola popolare non chiedendo un prestito ma dicendoci se tu in questi anni hai spalmato in varie fasi tanti contributi perché abbiamo la tesoreria e quindi diamo noi denaro ogni anno per la tesoreria e la banca agricola tu questi soldi cortesemente se me li puoi dare tutto in un colpo perché io ho bisogno di dare segnale di un certo tipo ai giovani di questa città. Quindi e io ho indicato quella fonte di finanziamento. Quindi questa pineta non è un investimento a perdere come per adesso molti dicono che questo acquisto ha indebitato il comune ad ora e basta. Quelli che lo dicono sono spaventati sono in uno stato confusionale hanno bisogno di aiuto perché non prevedevano un'iniziativa di questo tipo e con questa caratura di personalità che io mi sono affiancato. Guardi io per farmi dire come si può rendere produttivo il bosco otto giorni fa ho fatto venire l'ex presidente della provincia di Trento ed è attuale deputato capogruppo di dieci deputati e due senatori e di un viceministro ed è venuto a dirci che se io vengerò le elezioni lui manderà le persone specializzate che dimostreranno che con degli interventi all'interno del bosco si può creare occupazione per tutto l'anno quindi la pinnetta non ha bisogno di piangere sulla questione dei mutui quando io l'ho comprato e l'ho comprato nel 2001 l'immobile avevo le idee chiare che in questa provincia doveva nascere un aeroporto perché avevo contribuito come sindaco a farlo diventare una cosa seria l'aeroporto perché l'aeroporto si è da 1600 passato al 2004 di lunghezza della pista e lei sa meglio di me che sei mesi fa è venuto ad atterrare un giumbo chiaro? è grazie a questa iniziativa mia che ho modificato il piano regolatore in otto giorni per darci il terreno all'aeroporto di Comis come io sapevo nel 2001 e nel 2002 nasceva una scuola alberghiera che ho fatto a fare io c'è qualche candidato gassoso che si attribuisce merito su questa cosa lui nel 2006 è entrato a collaborare con i professori di quella struttura e anche penso con la preside mi immagino e quindi in quel periodo non c'era non esisteva ci sono i documenti c'è la firma congiunta tra il preside Bonome sottoscritto da sindaco e poi l'autorizzazione da due organismi il ministero della pubblica istruzione e l'assessorato della pubblica istruzione quella cosa l'ho seguito da parlamentare da sindaco e da parlamentare quindi è stato a cavallo tra il 2001 e il 2002 quindi se io so che c'è quella scuola che doveva necessariamente avere successo tant'è che è avuto successo oggi siamo 250 ragazzi che frequentano con il 70% di ragazzi di fuori quindi la pineta può essere un volano per la scuola perché all'interno del progetto ci sono 4-5 classi previste ci sono le cucine c'è la sala pranzo quindi la struttura si può realizzare perché sai perché non hanno fatto nulla quelle che mi hanno preceduto in particolare questo sindaco perché nel 2014 un chiaramontano e non il sindaco un certo architetto noto ha praticamente dato l'idea all'amministrazione di fare uno stage di 60 giovani architetti e hanno studiato tutta la materia dell'urbanistica chiaramontana e a conclusione la coordinatrice del progetto ha avuto l'intuizione di fare delle affermazioni ha detto questa città ha delle luci e delle ombre le ombre sono le costruzioni in corso Kennedy le luci è il rudere della pineta che è un bene di un valore inestimabile parole della coordinatrice del progetto lì c'è scattato qualcosa al cervello del sindaco perché dice ma allora io ora se lo porto avanti poi il merito di Gurriere è che ha avuto l'idea di comprare la pineta sonno tranquillo per tre anni un risveglio come dire patologico è avvenuto otto giorni fa quando si è saputo che noi dovevamo parlare in una manifestazione pubblica di questo argomento e stavamo facendo il progetto l'indomani della mia iniziativa pubblica il sindaco ha fatto un convegno annunciandolo il giorno prima fu una cosa in fretta ha fatto venire di nuovo la di nuovo che è che è la mia iniziativa